Benissimo, benvenuti, eccoci alla ricapitolazione della lezione sul ritopologizzazione fatta a sperimenta il 16 dicembre. Quindi qua, se vi ricordate, la settimana prima abbiamo visto come usarle normale, quindi avendo un oggetto modellato ad alta definizione, in questo caso credo che fossero 13.000 facce, 10.000 vertici, era stato ricostruito praticamente col decimate ed era riuscito ad arrivare a un numero di facce molto basso, 184. E su questo abbiamo poi fatto tutto il giochetto delle normal map. Ora, il problema della decimazione è che, come vedete, produce tutta una serie di triangoli e questi triangoli non sono il massimo per la modellazione. Di fatto la modellazione fatta bene viene fatta con dei quads, si chiamano, cioè dei quadrilateri, cioè dei trapezzi o delle cose simili. Quindi, ad esempio, qui vi faccio vedere come un esempio di modellazione che è considerata meglio fatta, poiché sia poi veramente fatta effettivamente meglio un altro paio di maniche. Però, qual è il vantaggio di questo modo di modellare? È che, vedete, ci sono, compaiono dei cosiddetti edge loop che percorrono i punti salienti della nostra forma. Quindi questo è un cratere. I punti notevoli del cratere sono, per esempio, il bordo del cratere. Vedete che quindi se clicco con alt e poi clicco, non so, la base qua, vedete che mi segue e mi fa vedere praticamente tutta una sponda del cratere. Anche qua, vedete che mi fa vedere la cima del cratere. E questa, diciamo, è una delle attività che concorrono a definire una topografia fatta bene. Se vi ricordate, anzi, torniamo sulla topografia semplificata, che è questa. Qui non è possibile avere degli edge loop, perché se io clicco con l'alt tasto destro, non riesco ad avere la silhouette, insomma, la cima della mia cratere. Allora, quindi, quello che dobbiamo fare è, se proprio, e questo succede spesso quando abbiamo fatto sculpting, abbiamo un'immagine ad alta risoluzione con tantissimi quad, vedete che questi sono tutti quad, quindi, o quasi tutti, no, in realtà non sono proprio quad, sono anche dei triangoli, quindi non va bene neanche questa, anche qua non è possibile, vedete, estrarre dei segmenti, occorre fare una ritopologizzazione di questo oggetto. E questa, diciamo, è una premessa, quindi quello che vi spiegheremo con questi spezzoni è quello di fare effettivamente alcune tecniche di ritopologizzazione, quindi partendo dall'immagine ad alta risoluzione, che è questa qua sotto, questa, riuscire in qualche modo a costruire un'immagine a bassa risoluzione, ma fatta rigorosamente solo da quadrati. Ok, quindi ci vediamo adesso per la prossima spezzone, dove cominceremo effettivamente a farlo. Ok, quindi per fare la ritopologizzazione, prima di tutto però vi faccio una piccola premessa, cioè vi insegno come usare la matita, cioè la grease pencil. Allora, la grease pencil è utilissima per creare dei riferimenti, dell'annotazione sul nostro modello. Quindi noi proviamo adesso a prendere un modello e vedere come farci sopra dell'annotazione. Prendiamo questo modello qua, quindi andiamo in object mode, selezioniamo col tasto destro il nostro modello, magari facciamo così, lo spostiamo M1 e poi lo spostiamo sul secondo questo, ok? In modo tale che lo vediamo solo lui. Ok, allora il nostro obiettivo è di disegnarci sopra, sono solo degli appunti notati, non è una cosa che ci serve per fare delle cose fantastiche. Comunque, allora facciamo CTRL, frecce in su, in modo tale da avere soltanto la finestra 3D e poi sul lato destro vediamo che c'è un apposito spazio per le grease pencil e le grease pencil ne possiamo avere quante ne vogliamo, ne prendiamo una, New, e questa grease pencil è quella che adesso useremo per disegnare. Ora, la cosa più utile, ci sono varie opzioni che adesso non vi sto a dettagliare, ma per brevità useremo la pittura, cioè dipingeremo con la matita sulle superfici. Quindi cosa facciamo? Prendiamo Surface e poi, attenzione, facciamo New Layer, qua, quindi abbiamo aperto una nuova grease pencil, abbiamo definito dove andare a scrivere e definiamo un po' il colore, no? Quindi proviamo a dire, quindi cliccando qua, che dipingiamo in rosso, ad esempio. Piuttosto potremmo dire che dipingiamo in blu, possiamo farlo in molti modi, comunque così dipingiamo in blu, e volendo possiamo ovviamente farlo più chiaro, insomma, come vogliamo, insomma, avere le sfumature. Allora, facendo così abbiamo la possibilità di dipingere. Allora, dipingere cosa vuol dire? Che noi premiamo D, Draw, e poi tenendolo premuto, col tasto sinistro del mouse, possiamo disegnare, e come vedete possiamo disegnare delle cose che è come se fossero dipinte, vedete, sulla superficie del mio oggetto tridimensionale, lo vedremo, che questa è una cosa molto importante. Quindi D, D e poi, tendo prima un altro, ok? Quindi posso fare tutta una serie di disegni, posso anche, volendo, scrivere, quindi qui posso dire D e poi A, e poi qui posso dire, posso mettere dei simboli, ad esempio, che mi servono. Adesso qui, nel caso nostro, la retopologizzazione la useremo solo per creare una specie di rete, la vedremo dopo, e che ci servirà come base di partenza per fare la nostra retopologizzazione. Ma in questo contesto, supponiamo, tra l'altro qui si vede un po' maluccio, quindi magari facciamolo rosso, ok? Vedete? Ecco, se per caso, mentre scrivo sbaglio, quindi faccio D e poi faccio una roba sbagliata, posso sempre facendo D e premendo col tasto centrale, quindi D, tasto destro del mouse, mi viene questa specie di gomma che mi permette di cancellare le cose che sto scrivendo. Una cosa sola da notare è che vedete che si vede tutto in profondità, adesso forse c'è anche la possibilità di dirgli non farlo, comunque questo è comodo perché si vede nei due lati con cui stiamo disegnando. Quindi questa, diciamo, è le basi minime per usare la gris pencil in pochi, diciamo, in un minuto. Allora, ci vediamo fra poco e vedremo come usare la gris pencil per iniziare a fare la retopologizzazione. Ok, cominciamo ora a progettare la nostra retopologizzazione. Per farlo occorre avere un oggetto di retopologizzazione iniziale che è meglio fare prima di fare la bozza con la matita. Per farlo la cosa più semplice è di creare, quindi andiamo qua in object mode, facciamo shift A e creiamoci un piano, vedete questo è il piano, ma questo piano, che sarà poi l'oggetto della nostra retopologizzazione, andiamo in edit mode, ci accertiamo che sia tutto selezionato, A, A, cancelliamo tutti i vertici, quindi premuto X oppure cance e poi vertici, in modo tale che sia un oggetto vuoto senza vertici, ma che sia selezionato in questo momento. Quindi questo oggetto lo troviamo anche nel qui dovrebbe esserci, ecco questo piano, lo chiamiamo retopologizzazione, no? Ok, così ce lo troviamo poi dopo, ok? Quindi retopologizzazione ce l'abbiamo pronto, ce l'abbiamo pronto qui e ce l'abbiamo, lo troviamo qua. Invece noi torniamo al nostro oggetto principale, quindi avendo selezionato questo piano, ecco questo è il trucco che volevo dirvi, quindi dovete aver selezionato l'oggetto con cui andremo a retopologizzare e poi con questo andiamo poi a usare la famosa grease. Quindi la grease, ci costruiamo un nuovo grease, un nuovo layer, facciamo un po' chiaro, lo facciamo di un colore, non so, facciamo verdino, insomma questo ad esempio, e poi cominciamo andare a mettere un po' come vorremmo a ritopologizzare. Allora, con la penna, la matita, cerchiamo di fare tutto il bordo di questo, seguire un po' le strutture, diciamo, topologiche. Quindi scriviamo di e scriviamo, quindi cerchiamo di stare quanto più in cima, sulla cima, sulla cresta di questo cratere e quindi fare un po' tutto il giro. Ok. Poi andiamo a vedere, ah no, vedete che, ecco, mi ero dimenticato di fare l'opzione dello grease surface, questo. Quindi adesso, ehm, facciamo escape, facciamo, quindi dobbiamo cancellarlo, quindi per cancellarlo, vediamo un po' se ce lo fa con il, si, lo cancelliamo con, come abbiamo imparato prima, col tasto destro, premendo D, e andiamo con la surface, lo ripetiamo adesso, giusto, ok? Ok, quindi rifacciamo tutto il, il giro, la struttura del cratere, che come vedete, è tutta fatta attorno a una specie di cerchio. E poi cerchiamo di, allora, questa qui è la punta, quindi noi facciamo sempre con D, cerchiamo di fare, diciamo, il bordo del cratere, seguiamo un po' il bordo, ci muoviamo in modo tale da, di, da fare un bordo sottostante, quindi, ok, più o meno abbiamo fatto questa cosa qua, e poi facciamo ancora altri cerchi che entrano dentro, quindi, praticamente diciamo, ok, seguiamo questo bordo, seguiamo questo bordo, cerchiamo sempre di, 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 fare in modo tale da seguire i contorni dell'oggetto, quindi, ad esempio, qui se c'è proprio sta scendendo, qui è l'unica cosa, ok, volevamo farlo a questa altezza, abbiamo fatto troppo basso, comunque, beh, il concetto, ecco, lo seguiamo magari, lo finiamo lì, e poi con, di, cancelliamo, questo pezzo in più, ok, abbiamo fatto questo bordo qua, dopodiché, proviamo a farci, anche sempre con D, ci facciamo anche delle, eh, delle linee orizzontali, quindi facciamo una griglia, una grigliatura, che poi cercheremo di mantenere, ok, ecco, qui quello che dicevo a lezione era che più o meno le placche che escono, queste saranno un po' la base per le nostre placche, dovranno avere più o meno la stessa, ehm, cioè le placche vicine, quantomeno, dovranno avere più o meno la stessa estensione, pena, diciamo, il fatto di avere dei problemi, un po' di topologizzazione o di texturizzazione dopo, cominciamo con, vedere se riusciamo a texturizzare, a retopologizzare questo pezzo, ehm, vabbè, poi in realtà vediamo che, eh, possiamo anche, eh, vabbè, adesso non posso farlo tutto perché ci si impiega una vita, comunque, qua ci sarà anche il pezzo che chiudere, quindi questo qua lo facciamo così, e qui l'idea è che poi, quando ci avviciniamo poi al bordo, possibilmente, eh, vedete che la griglia diventa proprio una rete abbastanza, più o meno omogenea, no? E quindi ci sarà poi la chiusura e poi seguirà poi tutto. Poi ci saranno dei trucchi che poi vedremo in alcune lezioni per capire bene come topologizzare, quindi i principi della topologizzazione. Adesso a noi serviva questa cosa solo per iniziare a fare, a vedere come usare questi trucchi per fare la ritopologizzazione. Quindi adesso questo abbiamo fatto il gris e ci vediamo al prossimo pezzettino di tutorial in cui andremo proprio a fare le singole placchette con uno dei metodi per la ritopologizzazione. Bene, ci eravamo lasciati che avevamo fatto più o meno queste placchette, adesso dobbiamo farle effettivamente, quindi siamo sul nostro piano retopologizzazione, che, diciamo, in edit mode, quindi non ha punti, e adesso dobbiamo costruirci i punti di questo oggetto. Per farlo dobbiamo usare questa funzione interessantissima che è lo snap, come vedete questo magnete, lo abilitiamo, quindi praticamente facendo un shift tab anche fa, ecco, proviamo a vedere quando è che funziona, quindi direi che così dovrebbe essere abilitato, quindi si vedono i colori, non è ingrigiato, diciamo, e poi selezioniamo l'opzione di questa che si attacca alla faccia, quindi noi ci magnetizziamo su un punto della faccia sottostante. Allora, cosa facciamo? Ritopologizzazione, quindi andiamo a depositare i punti, i punti depositiamo con CTRL, tasto sinistro del mouse, quindi se noi facciamo CTRL qua, punto, vedete che è comparso un punto, essendo che ho questa magnetizzazione, ci comportiamo un po' come prima con la matita, cioè la matita si attaccava alla superficie e anche noi adesso aggiungiamo i punti in quel modo lì, quindi noi possiamo, o, ecco, la cosa più semplice in questo caso sarebbe estrudere il punto, quindi facciamo E, estrudiamo il punto e lo mettiamo su un altro punto della nostra superficie, questo, poi facciamo E, lo estrudiamo, qua, E, estrudiamo, e quindi poi proseguiamo a fare, sempre con una serie di estrusioni consecutive, andiamo a fare tutti i punti che abbiamo visto, ok? Quindi anche qua facciamo estrusioni, punto, estrusioni, punto, estrusioni, punto, Quindi cerchiamo praticamente di estrudere e andare a definire tutti i punti. Man mano che facciamo i punti, cosa importante, bisogna vedere un po' se facciamo queste famose placche. Per vederle bene, queste placche, andiamo nella modalità qui dove c'è il cubetto e andiamo a dire X-Ray, ok? Quindi tutta la ravatura che stiamo facendo diventa visibile, quindi possiamo vedere eventualmente anche dei difetti. Ad esempio qui abbiamo un punto, sì, no, questo punto magari andava anche bene. Ah sì, però adesso abbiamo il, ok, disabilitiamo la O, quindi prendiamo questo punto, ok, che era qua. Ora, la cosa fondamentale che vogliamo fare è di fare queste facce, quindi le completiamo, quindi facciamo tasto destro e poi shift tasto destro per selezionare quattro facce, facciamo F e vedete viene formata una faccia, poi facciamo questo, 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 F e facciamo le varie facce, vedete di cui è composto. Ora, per capire se effettivamente le normali sono giuste di queste facce, magari facciamo ancora qualche altra faccia, ok? Perché le normali spesso vengono come vogliono loro, no? Quindi proviamo a darci un colore a questo materiale, a questo oggetto, retropologizzazione, quindi andiamo nel nostro qua, gli creiamo un materiale e il materiale che lo creiamo, lo creiamo di un bel colore, per esempio questo, ok? Così vediamo, e appunto il problema che dicevo prima è questo, vedete che in realtà adesso stiamo si retropologizzando, ma abbiamo tutte le facciacce che vanno, che hanno le normali che si vedono dall'altra parte. Quindi come facciamo ad aggiustare questa cosa qua? Semplicemente, dunque vediamo se ce la facciamo, facciamo Flip Direction, forse devo selezionare tutte queste facce, quindi facciamo questa, facciamo Flip Direction, ok? Così abbiamo praticamente le facce che puntano in alto. E a questo punto completiamo le varie cose, quindi facciamo, selezioniamo questo, allora, clicchiamo su un, ah no, erano le facce, quindi andiamo sui vertici, estrudiamo questo, questo lo estrudiamo, questo lo estrudiamo, e continuiamo a estrudere praticamente questi vertici, e adesso per mod... estrudiamo, quindi adesso probabilmente non è, cioè sto usando poche facce, troppe poche probabilmente, e quindi bisognerà poi, in realtà se fosse un progetto vero, forse dobbiamo poi aggiungerne, però adesso, per lo scopo di questo video, vi faccio vedere un po' di trucchetti, quindi continuiamo a estendere questi, questi percorsi, sempre seleziono il vertice che voglio estendere, ok? Quindi come vedete, il fatto di aver messo il magnetino, mi permette ogni volta che estendo, che metto un punto, che muovo un punto, il punto si muove lungo la superficie, quindi, ok, G, ok, e vedete quanto diventa importante, avere dietro, diciamo, la mia gris pencil, che mi permette di lavorare, in maniera tranquilla, e serena, ecco, una piccola cosa, invece di fare, di cliccare su quattro vertici, per volta, e fare F, facciamo CTRL Z, un piccolo trucco, è quello di, selezionare, magari, le due segmenti, quindi andiamo qua, prendiamo segmento, più segmento, e facciamo F, e così, dobbiamo selezionare solo due coppie di segmenti, invece di quattro punti, il che è molto più utile, ok, poi magari, seleziono anche, questo, abbiamo visto che c'erano le normali, sbagliate, quindi, man mano, ce le dobbiamo raddrizzare, se no, c'è anche un, un'altra, tecnica, che permette di fillare, in maniera veloce, e che è quella, che vi chiamate F2, F2 è un add-on, che si abilita, dalla user preferences, si va in, add-ons, e qui si cerca, F2, F2, mesh F2, lo selezioniamo, ok, allora, una volta selezionato, questo qui è carino, questo è il sistema, perché permette, avendo selezionato un edge, quindi noi andiamo su questo edge, ad esempio, e poi facciamo F, e vedete che lui, cerca di completare quell'edge, facendolo avanzare sul corridoio, sto continuando a premere F, e vedete che l'F2 è un sistema, che aiuta molto, nella retropologizzazione, quindi noi adesso, facciamo che andiamo avanti, ancora, a finire, il nostro, queste cose che abbiamo fatto prima, quindi, stendiamo, quindi usiamo questa tecnica, questa qua, ok, usiamo, facciamo tutto il corridoio, prima, in modo tale da, che poi F2 ci permetterà, di fare tutto, in maniera più semplice, 4 vertici di troppo, e, ok, stendiamo questo, stendiamo questo, ok, lì c'è già finito, questo qui, questo lo stendiamo qua, ok, e poi proviamo ad aggiungere, anche questi vertici, qua, vedete che, abbiamo quasi finito, vedete che ci va solo, molta pazienza, però, diventa un giochetto, insomma, da bambini, una volta che c'è, tutto impostato, con il grise, andiamo, allora, qui ci conviene selezionare, i 4 punti, quindi facciamo 1, 2, 3, 4, facciamo F, ok, poi selezioniamo, questo, facciamo F, no, ecco, vedete, se non funziona, come in questo caso, che non capisce, ci conviene, andare, con i 4 punti, quella è sfortunata, quindi questa, e non sempre gli automatismi, sono efficaci, però, sospetto, che se lo faccio adesso, di qua, ah no, devo fare questo, quindi prendiamo, questo punto, e questo punto, filiamo, quindi è venuto, l'edge, prendo questo edge, e questo edge, e lo filo, questo ce la fa, e poi questo punto, ecco, vedete che, a volte, funziona, a, ctrl z, bisogna sempre controllare, cosa fa, non fidiamoci, mai troppo, quindi, andiamo a, F, qua, e poi, qui tra l'altro, se volete, ctrl tab, e potete, selezionare rapidamente, qui abbiamo, l'edge, però, è, rovescio, eccolo qua, qua, niente, ah, ce l'ha fatto, comunque sbagliato, ctrl z, quindi, selezioniamo, 1, e 2, con la shift, F, 1, 2, F, ok, 2, F, e poi, qua, a questo punto, l'F, ci dovrebbe, aiutare, F, ok, quindi, come vedete, quello che abbiamo ottenuto, in questo modo, è di aver evidenziato, insomma, e di aver fatto, facciamo ctrl, freccia in su, una parte, una parte iniziale, del nostro, del nostro cratere, ora, adesso qui nel tutorial, non vado avanti, però vedete, come, quello che abbiamo fatto, riesca effettivamente, a seguire, le nostre, quindi, se noi questo oggetto, adesso lo prendiamo, lo selezioniamo, e lo muoviamo, nel terzo layer, quindi andiamo nel terzo layer, abbiamo soltanto lui, vedete, e, se, gli metto, lo smutto, vedete che, questo qui si vede, forse poco, però comunque, e permette, già un inizio, di ritopolagizzazione, del nostro cratere, allora, ci va il suo tempo, però, come vedete, abbiamo, un qualche cosa, che, permette, di fare questo mestiere, allora, il discorso, comunque, è ancora molto lungo, per ritopolagizzare, ci va ancora un po', però, almeno, la prima base, di premessa, usando quindi, come strumenti, il magneto, questo qui, lo snap, to closest face, quindi, sul più vicino, la faccia più vicina, dell'oggetto, abbiamo usato, come vedete, questi, questa matita verde, colorata, per aiutarci, a fare, la trama, e con questi strumenti, siamo riusciti, abbiamo, l'inizio, per poter fare, la ritopolagizzazione, adesso, solo come accendo, in realtà, ci sono altri strumenti, per fare la ritopolagizzazione, alcuni, sono molto interessanti, probabilmente, farò qualche video, dove esporrò, come funzionano, questi strumenti, comunque, brevemente, c'è lo shrink wrap, che viene anche usato, ed è abbastanza, leggermente, più veloce di questo, però, non arriva, a livello di precisione, che arrivereste, facendolo, con questo sistema, quindi, shrink wrap, è una velocizzazione, un'altra velocizzazione, è il, il nostro, diciamo, c'è proprio un addon, che si chiama, B surface, anche su quello, faremo un video, e poi, ci sono anche, i prodotti, del pagamento, che fanno questo mestiere, ma lì, vedremo tutti, con calma, e soprattutto, grazie alla ritopologizzazione, vedremo che, impareremo anche, a topologizzare, quindi, usare, cioè, costruire proprio da zero, i nostri modelli, con la topologizzazione, giusta, e per questo è tutto, ci vediamo, al prossimo anno,